Anche l'Associazione Italiana Sclerosi Multiple Locale fa il tifo per il Piacenza in vista della fondamentale trasferta di Trieste. Un augurio colmo di gratitudine non poteva essere altrimenti visto il bel regalo che la sezione piacentina ha ricevuto grazie all'iniziativa benefica organizzata dal difensore biancorosso Francesco Cosenza, presidente della ONLUS, un'azione per un sorriso. Si tratta di un montascale per il trasporto dei soci di AISM, acquistato con i fondi raccolti dalla vendita delle maglie indossate dai calciatori del Piacenza in occasione della gara contro il Vicenza lo scorso 17 dicembre e consegnato allo Stadio Garilli. Ne vado molto orgoglioso perché la mia associazione è nata circa 14 anni fa, voluta da me e del mio miglior amico, quindi grazie comunque alle donazioni per la vendita delle maglie donate dal Piacenza Calcio siamo riusciti comunque a fare un bel dono all'associazione AISM, la sezione di Piacenza, per poter aiutare le persone che hanno più bisogno. Il ruolo di questa società sportiva non è solo di fare sport ma è anche di essere vicino al sociale. Da tempo avevamo intenzione di dotare la sezione di un'attrezzatura di questo tipo e quando sono stato contattato da Francesco Cosenza che mi ha detto che avevano intenzione di donare un'apparecchiatura all'associazione abbiamo immediatamente pensato a questa attrezzatura che cercavamo da tempo e grazie alla loro donazione abbiamo potuto finalmente dotare la sezione di questo montascale elettrico cingolato che ci permette di mobilizzare i nostri soci che per il loro elevato grado di disabilità sono obbligati a spostarsi in carrozzina e poterli spostare e affrontare qualunque tipo di scala. Siamo più di 100, non tutti con SM però una buona parte dei malati piacentini sono soci della nostra associazione. Voglio ringraziare moltissimo questi ragazzi del Piacenza anche perché si unisce lo sport alla disabilità e all'aiuto e questo è un bellissimo messaggio.